Salve a tutti amici, sono Emiliano Babilonia. In questi giorni le torture e le manipolazioni sulle cavi umane stanno aumentando. Oggi è 30 settembre 2016, ieri 29 settembre 2016 hanno incominciato ad attaccare e torturare la signora Irene Silvestri attraverso le manipolazioni di attacchi con arma d'energia diretta. Tutta la notte poverina è stata sottoposta ad attacchi, lavaggi del cervello e torture. Questa notte, anche io, verso le 3, ho incominciato a rilevare le frequenze dei campi elettromagnetici sparati dalle armi ad energie diretta dei satelliti spia. Mi hanno incominciato a parlare in testa e in comunicazione dell'epatica di servizio con interrogatori continui, lavaggi del cervello e torture. Addirittura mi hanno messo delle nuove tecnologie e frequenze di interazione attraverso i campi elettromagnetici che sparavano all'interno del mio cervello. Questa mattina alle ore 7 i servizi segreti degli esterni, militari, hanno cambiato il turno e le frequenze delle manipolazioni dirette all'interno del cervello e hanno incominciato a mettermi ustioni fortissime all'interno degli occhi, nel cervello, nei polmoni, nel cuore con gravissime patologie. Mentre sto parlando adesso mi stanno minacciando di morte in continuazione i servizi segreti esterni e mi stanno dicendo che tanto loro sono coperti da false indagini antimafia, da false indagini antiterrorismo e da false indagini antidroga. Che fatalità! Tutte e tre queste indagini li fanno gli stessi identici nuclei operativi antimafia. Ma guarda che strano! Nello stesso modo i servizi segreti si collaudano in continuazione le frequenze delle manipolazioni cerebrali, le frequenze dei collegamenti nei miei centri nervosi primari, interagiscono attraverso le frequenze dei dolori. Mi stanno bloccando le parole i servizi segreti degli esterni, mi stanno dicendo che un loro laboratorio sta all'interno della farnesina e che le parabole sono state messe sopra i tetti e dirette direttamente sui satelliti di spia Trasponder che creano una depistazione di puntamenti satellitari in comunicazioni digitali criptate in modo che nessuno può operare attraverso queste tecnologie, che nessuno può scoprire da quali punti vengono deviate queste comunicazioni neurali satellitari e da quale sistemi loro possono operare. E mi stanno dicendo che loro sono servizi segreti che dal 1970 esistono in Italia, che sarebbe dalla Stibi AIM, il Gladio, la P2 e adesso operano con la nuova P2 che effettua esperimenti militari su cavi umane, effettua manipolazioni cerebrali. Guardate adesso è partito l'attacco, guardate le frequenze come si stanno modificando un'altra volta. Vedete, mentre sto parlando l'ho fatta apposta a mettere l'elettroencefalografo, stanno partendo gli attacchi, le ustioni, le manipolazioni cerebrali, gli attacchi e le frequenze dirette nel cervello in continuazione. Guardate, guardate che cosa ci fanno, che cosa ci sparano nei centi nervosi centrali, che cosa ci creano all'interno del cervello, guardate, guardate. Sono i servizi segreti esterni che sperimentano queste tecnologie su di noi cavi umane, i servizi segreti esterni che danno appalti di miliardi per l'attestazione e il collaudo dei satelliti spie e per lo spionaggio sulle masse, i servizi segreti esterni che creano gli attentati in Italia, i servizi segreti esterni che creano i narcotrafficanti in Italia, che danno poi il 50% di tutti gli introiti delle vendite del narcotraffico internazionale, del contrabbando di armi internazionali ai servizi segreti. Se volete testimoniare sulla mia radio web, sui miei canali di YouTube, vittime del controllo neurale, chiocciola gmail.com, e se volete interagire o cercare di contattarci o parlarmi attraverso Skype, Emiliano, Babilonia, 1972, e nello stesso tempo chi mi contatterà, e presumo che sia una vittima, un testimone, una persona che ha subito, una persona che ha scoperto dove queste persone potrebbero essere nascoste e dove potrebbero operare con queste esperimentazioni e con l'altro. Guardate che cosa sta succedendo addirittura, le frequenze alternate che mi stanno sparando nel cervello, guardate, sta zompando tutto, guardate, guardate. Avete capito che cosa ci fanno? Ci interagiscono attraverso la rete elettrica nazionale, cioè tutte le frequenze dei campi elettromagnetici in alternata dei 50 Hz, camuffano la risonanza di Schumann, la risonanza magnetica, con le stesse frequenze cerebrali, con le ARP, con le scie chimiche che vengono sparate sui cieli attraverso le interazioni che vengono effettuate attraverso l'assorbimento di queste sostanze chimiche dall'acqua, dai cibi, ci narcotizzano, ci ipnotizzano, ci mettono frequenze antidolorifiche e per fare tutto questo interagiscono attraverso i radar da terra, le ARP e attraverso le tecnologie di manipolazione dirette nel cervello. Guardate gli attacchi, guardate, guardate come si stanno alterando tutte quante le frequenze degli attacchi e delle manipolazioni che sto subendole sul corpo, guardate, guardate che cosa stanno facendo, guardate, avete visto? Come ho detto questa parola, guardate che è successo, guardate, sta saltando tutto, sta soppando tutto. Questo è quello che sperimentano su noi i servizi segreti degli esterni, questo è quello che stanno facendo pure alla povera Irene Silvestri che ha aiutato un sacco di persone, questo è quello che fanno. Se voi, cavie umane, vittime del controllo neurale, persone che subite questi attacchi e queste manipolazioni, che vi dicono che siete schizofrenici, elettrosensibili, malatine di mente, non è vero, queste sono sperimentazioni e collaudi di satelliti di spia per eliminare le persone che interagiscono e che si accorgono o che si svegliano dai stati ipnotici-natcoletici del controllo globale. Le prime frequenze, i primi sintomi e le prime avvisaglie per loro sono la telepatia artificiale continua, le frequenze ad interazione a vibrazioni sul corpo perché incominciate ad interagire con le frequenze elettriche e le malattie psicotiche che vengono ricreate dalle amplificazioni dirette nei centri nervosi. Guardate che cosa sta succedendo, guardate, non riesco l'ancop... Guardate che cosa sta succedendo, guardate,